Un campione che ha entusiasmato e commosso il mondo intero, il cordoglio comincia sulla porta della sua casa e dilaga sui giornali, sui social e nelle strade per la di poppa. Accorrono da tutto il mondo davanti alla villa dove Maradona ha trascorso gli ultimi giorni con motion mundial, titolo il quotidiano argentino Clarín, una commozione che attraversa il pianeta, riempie i titoli dei giornali, BBC, genio imperfetto, The Guardian, il genio bambino che divenne profezia, Le Figaro, successi ed eccessi di un ragazzo d'oro. Mamma è morto Maradona, mi ha detto mio figlio, e io non riuscivo a crederci, il cordoglio dalle strade di Buenos Aires alla Casa Rosada ci ha portato sul tetto del mondo, ci ha fatto felici, scrive il presidente argentino Fernandez, una sola parola, eterno, è il commiato della Federcalcio Argentina, a sta sempre Diego, lo saluta, la sua nazionale. E così tutte le squadre, a cominciare da quella in cui il piccolo Diego cominciò a giocare da bambino, gli Argentinos Juniors postano la sua prima maglia e una data di morte che rifiutano di indicare. Poi l'equipo in cui diventò campione, il Boca Juniors, la squadra per cui tifava suo padre, Don Diego. L'omaggio del Barça, due anni di magia nel Camp Nou, e dell'altra sua squadra spagnola, il Siviglia, che rispolvera un vecchio coro, i Todo e il Pueblo cantò, Maradò, Maradò. Le lacrime dei campioni di oggi e di ieri, Cristiano Ronaldo, io dico addio ad un amico e il mondo ad un genio eterno. E ricordo triste di un altro numero dieci, l'ex rivale Platini, nostalgia di un'epoca che è stata bella, Diego ha segnato la mia vita e il nostro passato che se ne va. Maradona e la cultura pop. Grazie.